Oh, che cosa? Oh! Cosa volete da me? Dopo indire la nave Ok Potrei avere un problema Ah, ecco due Potrei avere un problema, sì Ce l'ho alle spalle Ok, uno potrebbe essere andato Ok Ci mancano le sentinelle Ok Ok Ah, ho avuto la scilla quando ho avuto dove sono Ah Ma guarda che ho fatto anche poi Questo in arco Devo tirarmi, girarmi Odio battaglia iniziale Mmm Mmm Tu vai Tu vuoi E se hai credo che iniziale oi Mmm 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 Io non riesco a vedere loro invece Ok Maffanbrodo Eccola Ho delle battaglie spaziali per un motivo Ok Non è mai che ho fatto un tempo a ricaricarlo Ok Però mi sembra essere mossa troppo bene Sai che ti manca poco Ma c'ho due Ok Un'andata Remane una Dove sei? Non mi scappi sto giro sentinela dell'ostia Ok Ok Maffanbrodo Di nuovo intercettori Quanti Uno Non mi è che è stato buono Non mi scappo Mi è stato buono Ok Ok Quanti vediamo di sistemare l'intercettatore ancora l'ultima volta già che ci siamo una sentinella solo sta manendo mal di mae ancora oh figlio non finiscono più approfitto per due non è nemmeglio si sente che mi stanno massacrando non ho fatto in tempo girati, girati per dio girati fatica adesso non ho più ma a te non ci penso a tonico va bene lo stesso pochissima vita perché non mi fa fare i scudi non mi fa il kai kai non ho più sodio giocare a me a tu giocare a me a tu per tu i miei critici non mi sono ma porco due perché non mi cambia più le armi 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 ok 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 mi ha molto piacere ma la mia domanda è Ma no, ho perso tutto l'inventario. No, l'inventario. Oh, l'inventario della nave, ho perso. Ah. Ah, riesco a fare una placca metallica. Non è proprio andata come volevo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Grazie a tutti.